E' un vetratista, cioè un artigiano che ha fatto della sua passione per la manipolazione creativa di materiali più diversi e partire dal vetro, non solo un hobby ma una vera e propria professione, o meglio un mestiere che esercita nella sua bottega, una sorta di officina atelier piena di vetri colorati, forno, attrezzi, ma anche di spenni di oggetti già pronti per il mercato. Sentiamo allora Massimo Travagli definire la sua professione di vetratista, un mestiere che ha dato origine ad una delle imprese più longeve dell'artigianato artistico ferrarese, una delle eccellenze nascoste in una città votata, spesso nel silenzio dei laboratori artigiani, all'arte e alla cultura. Il vetratista è colui che esegue delle vetrate d'arte e quindi si differenzia dal vetraio tradizionale in quanto utilizza sempre dei vetri rilegati a piombo, dei vetri colorati e quindi diciamo che si rifà al campo dell'arte. Quindi il vetro diciamo che non è, come ho già detto, il materiale unico col quale io lavoro, io diciamo che durante la mia carriera in tutti questi anni ho imparato a lavorare vari materiali, quindi dai metalli ai legni alle pietre alle resine e quindi cerco di utilizzare tutti questi materiali per creare, ripeto, dei pezzi unici, è frutto della mia fantasia, diventa tutto un gioco e quindi cerco sempre di dare un'emozione a quello che faccio e di divertirmi soprattutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.